Quello che stiamo osservando sono schermate relative a un JVC DLA N5 presso la sede di JVC Italia con su il firmware 3.30, quindi una versione beta non ancora quello definitivo 3.50, d'altra parte vista la situazione epidemiologica italiana io ero a Milano quando era disponibile solo firmware beta ma la struttura e le prestazioni del nuovo firmware 3.50 sono praticamente sovrapponibili. Vediamo subito la schermata principale del primo menu relativo alle impostazioni immagine, abbiamo nella prima voce tipo di contenuto, è possibile impostare manualmente le tre principali curve del gamma, la seconda voce per modalità d'immagine sono le impostazioni predefinite, la prima è ovviamente il frame adapt HDR che prevede l'algoritmo di analisi anche fotogramma per fotogramma, nel menu modalità d'immagine ritroviamo ovviamente le impostazioni predefinite, l'alimentazione della lampada alta oppure in eco, il diaframma che può essere impostato manualmente oppure su due impostazioni automatiche e poi i classici controlli di contrasto l'unicità colore e tinta. Il profilo colore, le temperature colore che sono quelle classiche quindi abbiamo quelle predefinite e due personalizzate con i controlli su alte luci e basse luci, l'elaborazione HDR per il tone mapping che può essere fotogramma per fotogramma, scena per scena oppure ad accesso dei metadati statici e poi il nuovo theater optimizer che in questo caso può essere acceso spento il livello di compressione della gamma dinamica su tre livelli e poi a cura dell'utente l'inserimento della diagonale dello schermo ovviamente considerando l'area illuminata dalla matrice del proiettore e il guadagno compreso da 0.8 fino a 5.0. Disattivando il theater optimizer è possibile impostare manualmente il livello di compressione della gamma dinamica del tone mapping stavolta su 5 livelli al contrario dei tre livelli che erano invece presenti nel firmware 3.1 Vediamo le due clip dal Blu-ray 4K HDR di Aquaman di cui invito a controllare la recensione su AV Magazine vediamo il capitolo 4 se non sbaglio in cui impostiamo un livello di ottimizzazione medio e anche alto in cui vediamo quali sono gli effetti sulla compressione della gamma dinamica e sulla visibilità dei porticolari sulle basse luci la percezione delle informazioni sulle basse luci è perfetta praticamente perfetta ovviamente il consiglio in questo caso su uno schermo 120 pollici con guadagno 08 un darstar 9 il livello di ottimizzazione medio è quello che ho preferito vediamo invece il capitolo 6 in questo caso abbasso subito la sensibilità della mia panasonic in modo da da privilegiare la visibilità dei dettagli sulle alte luci e vediamo subito cosa succede qualche secondo più avanti ecco qui in cui vediamo qual è il livello di dettaglio sulle alte luci che è straordinario e che viene conservato vedete anche se passo non solo a livello medio ma addirittura anche a livello alto ora è chiaro questa è una veloce carrellata di quello che porta il nuovo firmware 3.5 in download da poche ore è chiaro che per un'analisi più accurata servirà avere qui un progettore gvc nel nostro laboratorio in cui magari verificheremo il divario di prestazioni rispetto a un sistema più potente come il digifast che abbiamo a disposizione con ma dvr è una potenza di calcolo sicuramente superiore rispetto a quella a disposizione all'interno di un progettore gvc però possiamo dire che quello che abbiamo visto finora con il nuovo firmware è sensazionale grazie a tutti